Quindi abbiamo visto cosa sono gli array e cominciamo a vedere i primi metodi che possiamo utilizzare. I metodi, come abbiamo visto precedentemente, sono delle funzioni in pratica che vengono utilizzate mettendo un punto e poi il nome del metodo e poi aperta e chiusa parentesi tonda. Spesso si mettono anche dei dati all'interno di quella parentesi ma ogni tanto no. Quindi il primo metodo è il metodo push e cosa consente di fare questo metodo? Qui è stata creata una variabile guest list, una lista di invitati e all'interno ci sono i nomi degli invitati, Mario, Luca, Katia e Lucia. Ammettiamo che Mattia voglia entrare in questa guest list però vogliamo metterlo alla fine della lista, quindi all'ultimo indice. Il modo in cui lo possiamo fare è appunto di scrivere guest list, quindi il nome dell'array, punto push e poi tra parentesi tonde quello che vogliamo inserire in questo ultimo indice. In questo caso Mattia, la stringa Mattia. Infatti poi l'array guest list risulterà composto da cinque nomi e con ultimo Mattia. Quindi questo è push, poi esiste unshift che fa una cosa simile ma invece di andare a mettere il nome alla fine della lista lo mette all'inizio della lista. Quindi uguale, invece che scrivere push, scriviamo appunto unshift e tra parentesi mettiamo il dato, in questo caso la stringa Mattia, che vogliamo inserire e vedete quindi che guest list è andato a essere modificato adesso e abbiamo Mattia all'inizio della lista, nella posizione 0. Quindi Mario, che prima era la posizione 0, passerà alla posizione 1 e così via tutti andranno avanti di 1. Quindi questo è unshift, poi esiste il metodo pop che serve a togliere invece che mettere. Abbiamo questo array sempre di quattro nomi e qui all'interno delle parentesi non bisogna mettere niente perché non c'è bisogno di dire cosa andremo a togliere. Questo metodo toglie l'ultimo elemento della lista, qualunque esso sia. In questo caso è Lucia, quindi se noi scriviamo guest list pop, Lucia andrà fuori e l'array risulterà essere adesso composto solo da questi tre nomi. Stessa cosa con shift, invece che togliere dalla fine della lista, shift toglie dall'inizio. Quindi uguale, shift, parentesi, all'interno non bisogna mettere niente e Mario salta fuori dalla lista e la lista risulta in questo modo. Tutti i nomi fanno appunto shift, che in inglese vuol dire traslano, verso sinistra, quindi Luca che era la posizione 1 andrà alla posizione 0 e così via. Di metodi per gli array ce n'è tanti e ne vedremo parecchie perché si utilizzano tanto. Ve ne volevo far vedere altri due, abbastanza semplici da capire. È il metodo includes, come si usa includes. In pratica si mette, qui c'è sempre la solita guest list, l'array con i nomi. E viene fatto un console log in questo caso di guest list punto includes e poi Katia. Katia, ovviamente deve essere scritto esattamente come è scritto qua Katia, quindi con la K maiuscola. Se nell'array guest list è incluso Katia, allora questo mi darà true, ok? Questo è il console log, sto facendo il console log e il valore che mi dà è true. Questo ad esempio io qui l'ho usato in un console log ma poteva essere usato in un if statement, ok? If è poi tra parentesi guest list includes Katia, chiusa parentesi, quindi se tutto questo è vero allora esegui questo codice. Il prossimo è simile ma un po' diverso ed è index of, l'abbiamo visto con le stringhe index of. Katia mi restituirà 0, 1, 2, mi restituirà il numero 2 che è l'indice a cui si trova Katia. Se Katia non c'è nel guest list, come per le stringhe, uguale, lì andavamo a cercare se una lettera c'era o meno, se vi ricordate, quando una lettera non c'era mi dava meno 1 come risultato. Anche negli array dà uguale meno 1. Quindi facciamo qualche esercizio, questa qua posso cancellarlo tutto, faccio qualche prova per farvi vedere se funziona tutto e poi facciamo l'esercizio insieme. Quindi ho creato la guest list con i miei 4 nomi, faccio il console log per vedere se va tutto bene e infatti ho qua il mio array, ok, con i 4 nomi. Ora, ad esempio, proviamone un paio, proviamo pop, pop, vi ricordate, toglie l'ultimo elemento della lista, ok? Quindi se io faccio guest list.pop, e poi vi dovete ricordare sempre di mettere le parentesi perché è un metodo, una funzione, ok? L'azione è stata fatta. Per vederlo, questa cosa qua, devo rifare un console log della lista. Così, vedete, ora ce n'è 3, ok? Lucia, che è l'ultimo, manca. E se l'ho tolto. Se io voglio mettere, al posto che Lucia adesso ne ho 3, voglio aggiungere un altro, quello che devo fare è guest list, punto, ammettiamo invece di volerlo aggiungere alla fine, dove era prima Lucia, ora io la voglio mettere all'inizio, sempre Lucia. Quindi, se vi ricordate, guest list, punto, unshift, unshift, e poi tra parentesi il nome che voglio andare a mettere, Lucia. Così, posso fare ancora console log. E ora vedete che Lucia è stato inserito all'interno, all'inizio della nostra lista, del nostro array. Ok? Proviamo un altro, proviamo il metodo includes, quindi, semplicemente possiamo fare un console log di guest list, punto, includes, e andiamo a vedere se c'è Lucia, ok? Se è stato messo, quindi Lucia, ok? Se salvo, true, perché Lucia c'è. Se io Lucia l'avessi scritto con la lettera minuscola, quindi una stringa diversa, Lucia non la trova, mi dà false, ok? Ora vi propongo un esercizio abbastanza semplice, giusto per fare un po' di pratica. Voi metterete in pausa, tenterete di farlo, e poi lo svolgiamo insieme. Quindi l'esercizio è questo. Dovete, quindi, creare un array chiamato dog list, con all'interno i nomi Apollo, Fuffi, Sansone e Nuvola. Poi, punto 2, inserire alla fine della lista dei cani il cane Ramona. Punto 3, togliere il primo cane dalla lista. Punto 4, modificare il cane Fuffi in Fluffy. E poi, punto 5, creare un if statement, che fa il console log della frase Fluffy è nella lista, solo se Fluffy effettivamente è presente nella lista, ok? Quindi mettete in pausa, provate a farlo, ci vediamo fra poco. Bene, quindi io cancello questo, quindi creo l'array, const dogs list, uguale, in questo modo ho creato la lista dei cani, ok, quindi primo punto, secondo punto vado ad aggiungere il cane Ramona alla fine della lista, quindi lo faccio col metodo push, dogs list, punto push, e all'interno delle parentesi il nome del cane, in questo caso Ramona. quindi posso fare un console log per andare a vedere che vada tutto bene, di dogs list, e infatti adesso ci sono 5 elementi, non più 4, e Ramona è l'ultimo, quindi il punto 2 è fatto, punto 3, togliere il primo cane dalla lista, quindi il primo cane è Apollo, per toglierlo devo fare dogs list, shift, ok, questo toglie il primo elemento, vi ricordate mentre Pop toglie l'ultimo elemento, shift, aperta e chiusa parentesi, e basta, semplicemente così, provo ad andare a fare ancora il console log, infatti Apollo è stato tolto, e adesso ci sono 4 elementi all'interno del mio array. Ora, se io voglio andare a modificare, come qui mi viene chiesto, faffi in fluffy, devo prima guardare a che indice è faffi, ok, quindi l'indice è 0, e devo scrivere quindi, dogs list, indice 0, uguale, la stringa, fluffy, così, faccio ancora il console log, e ora invece che faffi ho fluffy, ok, quindi il quarto punto è fatto, andiamo a fare il quinto punto, creare un if statement che fa il console log della frase, fluffy è nella lista, solo se effettivamente è presente, quindi fluffy c'è nella lista, quindi noi possiamo fare if, poi, dogs list, il nome dell'array, punto, includes, e poi, tra parentesi, mettiamo il nome che vogliamo vedere se è incluso, fluffy, ok, allora fai console log, della frase, fluffy, è nella lista, così, salvo, e fluffy è nella lista, perché c'è, se io fossi andato invece a cercare per faffi, per fuffi, che è quello che c'era prima, non me l'avrebbe trovato, quindi questo sarebbe stato falso, quindi il codice non sarebbe stato eseguito, potrei mettere, else, volendo, potrei fare, in questo caso invece il console log di, fluffy, non è nella lista, infatti, fluffy non è nella lista, in realtà è sbagliato, perché fluffy c'è nella lista, io però non sto cercando più per fluffy, ma sto cercando per faffi, ad ogni modo avete capito cosa volevo dire, ok, quindi, questi sono dei metodi che servono molto, sono abbastanza semplici, poi ne vedremo altri di metodi per questi arrays, e vi invito a fare un po' di pratica, con questi metodi, createvi degli array, provate a togliere, a mettere, ovviamente non importa ricordarsi se pop toglie, dalla fine o dall'inizio, queste cose si possono sempre cercare, vi consiglio sempre di utilizzare, il sito di mdn, quando non vi ricordate qualcosa, scrivete mdn, ad esempio javascript array, ok, e qui trovate tutte le informazioni che vi servono, vedete i metodi degli array, ok, poi potete cliccare su ogni metodo e vedere, ok, era pop, non mi ricordo, vai a vedere, e qua spiega, se ci vuole, bisogna capire l'inglese, perché purtroppo, come vedete qua, il linguaggio, italiano non c'è mai, ci sono tantissimi, ma non l'italiano, e, comunque, se masticate un pochino l'inglese, qui potete vedere tutte queste informazioni, ci sono anche siti italiani, però, vi consiglio di, se non sapete bene l'inglese, di migliorarlo, perché per programmare, la stragrande maggior parte della documentazione, è in inglese, ok, qui vedete tutti i metodi, degli arrays, alcuni sono un po' più complessi, tipo slice, vedremo come utilizzarli, sono veramente utili, e si utilizzano, nell'applicazione di tutti i tipi, semplici o complessi, ok, ci vediamo nel prossimo video, . . . . . . . .